eccoci qui o meglio rieccoci qui come state un abbraccio a tutti mi raccomando iscrivetevi numerosi in questa zona dai 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 arriviamo presto 90.000 iscritti mi raccomando un grazie vecchio un benvenuto ai nuovi se siete nuovi iscrivete se vi va qui sotto il vostro nome che vi diamo il benvenuto ovviamente tutto è gratuito lasciate un bel like e commentate numerosi con il vostro punto di vista con il vostro punto di vista giornata con tante novità questa mattina le pagelle il video precedente che vi invito a vedere alla fine di questo mi raccomando messo anche delle immagini e parliamo di un giocatore clamoroso ora attenzione in questo video lo dividiamo in tre parti ci sono diversi temi uno purtroppo mi rattrista lo dico e mi dà un po di tristezza anche un po più di tristezza dall'altra parte invece c'è un indiscrezione clamorosa di mercato quindi tenetevi forte parto però da un dato piuttosto anomalo perché insomma ieri allo stadio in linea mi sembrava calcio di rigore su teo hernandez prende la palla credo fosse baschirotto però poi travolge anche teo in quel caso mi hanno spiegato che conta la diciamo così la decisione dal campo siamo al quarto rigore assegnato e poi tolto dal VAR nelle ultime sette partite dato che è molto curioso è un dato molto singolare ed è un'anomalia clamorosa il fatto che il Milan nella classifica di calci di rigore sia tredicesimo soltanto tre rigori a favore il Milan è una squadra che lo sappiamo insomma potete dire tutto possono dire tutto una squadra con attitudini offensiva e propositiva pensate ditemi se non è anomalo che il Bologna abbia più rigori a favore il Monza lo Spezia anche Inter e Juve la Cremonese ha più rigori a favore il W6 la Fiorentina al W6 il Napoli 7 ci sta il Sassuolo 7 Lazio 7 Atalanta 8 Roma 9 con una partita di meno magari danno un rigore anche stasera spero di no insomma siamo quantomeno molto sfortunati sul discorso arbitrale in generale ieri Chiffi mi è sembrato anche decisioni più semplici nei calci di punizione davvero fuori partita e permetteva loro di picchiare non fischiava mai fallo loro credo che abbiano concluso una partita senza cartelli gialli non dovrei sbagliarmi credo di non sbagliarmi correggetemi nel caso insomma i rigori al Milan quando ce li davano ricordate la testa tanta anche le campagne mediatiche la stessa gazzetta ora tre rigori a favore a campionato quasi concluso mi sembra obiettivamente poco col Bologna sappiamo con l'Empoli sappiamo ci mancano i calci di rigore ieri secondo me col rigore su Teo andava dato non ho rivisto ancora quel fallo di mano con Marelli che dice che non era rigore Denis di Roribitrali che dice che invece era calci di rigore insomma vediamo però ripeto un dato clamoroso purtroppo in negativo soltanto ecco soltanto una due tre quattro cinque sei sette squadre su venti hanno avuto meno calci di rigore il Milan è l'unica squadra delle grandi così in basso in questa classifica male 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 o magari Rebic l'avrebbe sbagliato non lo so però dateceli ecco poi veniamo preferita la la bomba oppure la notizia negativa partiamo dalla notizia negativa ci togliamo il dente e ci togliamo il dolore purtroppo ieri ero lì insomma proprio davanti a lui ho visto il riscaldamento di Ibra che ha che ha riscaldato la folla l'ambiente insomma Ibra è sempre portatore di entusiasmo no è sempre un'icona per i tifosi milanisti riscaldamento propedeutico ad entrare a fare 10 15 minuti inizia a riscaldarsi quando mancava mezz'oretta lo vedo poi camminare e camminava purtroppo strano zoppicava ho capito subito che c'era qualcosa che non andava accompagnato dal preparatore del Milan e poi e poi insomma abbiamo avuto la conferma del fatto che nel riscaldamento lui avesse avvertito un problema fisico confermato anche da Pioli post partita purtroppo dovrebbe trattarsi di un problema al polpaccio e quando si dice polpaccio non si dice mai nulla di buono vi ricordate quando insomma già lo si sapeva però con megnani il polpaccio è stata una brutta bestia il polpaccio quando hai 41 anni e mezzo è una brutta bestia vediamo appunto le evoluzioni però siamo a una quarantina di giorni dal finale di stagione sperando che possano essere 45 cioè arrivare al 10 a farsi la finale che però Ibra non può fare perché è fuori dalla lista champions e c'è il rischio che per Ibra purtroppo la stagione sia finita qui con la del Milan e se fosse finita qui la stagione con la maglia del Milan significherebbe vedere un Ibra che quest'anno ha giocato appena 144 minuti in Serie A con un gol con lo suo calcio di rigore però c'è il rischio concreto che oltre alla stagione lui possa andare incontro a un fine carriera quantomeno con il Milan che al momento non è tanto favorevole la farò tornare a giocare il prossimo anno significherebbe che l'ultima sua partita è quella sarebbe quella del 18 marzo persa 3 a 1 in cui lui però se non altro a livello di ricordo di simbolo ha la fasciata capitano e fa il suo ultimo gol l'ultima partita fasciata capitano gol provando a ignorare il risultato avrebbe un suo perché però dispiace perché lui comunque fatto le operazioni avrebbe giocato quest'anno appena 144 minuti speriamo possa rientrare per il finale di stagione magari anche per una passerella per un giusto saluto sapete che insomma io non sono favorevole a questa nuova è finito con Ibra in estate ecco proprio perché mi sembra che gli stia dando un po' l'idea del trascinarsi adesso veniamo alla notizia clamorosa detto questo però mi dispiace molto spero ripeto che possa entrare per un finale dignitoso per un saluto dignitoso che possa essere ripeto passerella e non finire così di fatto in infermeria è quasi sicuro le strade si separeranno in estate o meglio che lui non avrà più la possibilità di giocare ancora con il mina gli verrà proposto un ruolo di dirigente vicino alla squadra milanello lui però è molto spaventato dalla separazione dell'attività agonistica quindi vediamo se magari prova altrove a continuare a giocare ripeto un peccato mi rattristo un po' in questa giornata comunque felice perché abbiamo vinto spero possa rientrare per il finale di stagione però c'è il rischio che la stagione e la carriera sia finita in quella in quel riscaldamento ieri e capite anche che un giocatore che si fa male il riscaldamento a volte capita ma è molto raro quando è 41 anni e mezzo è il fisico che ti sta dicendo Ibra Zlatan finisci qui non si può più andare avanti vediamo cosa succede un grande in bocca al lupo a Zlatan speriamo di rivederlo però ripeto c'è molta paura in questo caso che la stagione possa essere finita o bisogna fare dei ragionamenti sul discorso mercato ne faremo anche nei giorni prossimi perché lì bisogna investire come numero 9 ragazzi investire 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 ma ne parleremo poi ci spostiamo sul capitolo mercato allora siamo al 24 aprile siamo stiamo entrando di fatto nelle fasi di mercato che inizierà ancora mancherà un paio di mesi però in questa fase i parametri zero si accasano i rinnovi vengono definiti oppure già gli acquisti vengono definiti me ne avevamo preso un mesetto fa due anni fa le trattative iniziano a piano piano essere imbastite barra decollare dall'inghilterra nelle ultime ore è arrivata un'indiscrezione clamorosa quella che noi definiamo bomba nel bel senso della parola in chiave mercato non in quello brutto che purtroppo se andiamo ancora ai telegiornali arriva da un collega della sampa inglese mike mcrett del daily telegraph che ha anche un ottimo seguito sui social evidentemente viene ritenuto anche affidabile che scrive evidentemente con condizioni di causa non solo può essere inventato ci vorrebbe molta fantasia una notizia che mi dà vibrazioni positive mi dà un bel sussulto seppur dal manuale delle buone istruzioni del calcio mercato sappiamo vanno mantenuti i piedi per terra è un giocatore che alza il livello la personalità la caratura a livello europeo la notizia del collega mcrett è che il minan negli ultimi giorni si è interessato a kyle walker ha fatto un sondaggio con il city e con il suo agente per capire la fattibilità di un trasferimento in estate sfruttando due situazioni la prima walker sta giocando poco walker è diventato una riserva del manchester city andando un po' a scorrere sta giocando sinceramente poco in premier league e soprattutto in champions league nelle ultime quattro ha fatto 92 minuti di gioco l'ultima con il bayern è entrato appena due minuti le precedenti due tra bayern e lips è stato in panchina aveva giocato titolare quella precedente la stagione lo vede fin qui con 19 gare in premier league 0 gol 0 assist 1290 minuti in totale di gioco in fi cup un assist in champions due partiti 92 minuti 0 assist non è uno che segna e che fa assist ecco però è un giocatore secondo me molto forte non soltanto secondo me che ti può alzare la caratura a livello europeo la seconda situazione che può sfruttare il minan è quella della scadenza 2024 significa che ti puoi portare a caso un giocatore per un piccolo indennizzo l'ingaggio 5 milioni e mezzo ma è chiaro che l'ultimo contratto a 33 anni che compirà maggio ricordiamo che è stracomunitario non ti può chiedere la luna c'è decreto crescita che favorisce il tutto secondo me sarebbe bello perché comunque florenza avrà un anno in più e anche problemi fisici ti va via dest walker secondo me è uno che a livello di champions alza è una categoria alta anche se i numeri non lo dicono insomma walker da una parte teo ornandez dall'altra il livello diventa quello di top club che possono spendere anche tanto ecco ovviamente bisogna mantenere i piedi per terra però l'indiscrezione del collega ripeto non può essere inventata e avrà delle basi di fondamento appunto ed è intrigante il minan sicuramente vuole fare qualcosa e poi ci può essere una sana alternanza sapete che comunque ci sono purtroppo anche i problemi fisici abbiamo avuto fuori calabria e florenzi insieme è un'idea intrigante proprio per alzare il livello in europa laddove l'esperienza conta lo ha detto anche ibra ci manca un po l'esperienza walker a livello di champions ragazzi tanta roba quest'anno due presenze lo scorso anno 7 l'anno prima 11 l'anno prima 6 l'anno prima 10 l'anno prima 7 insomma è uno che non fa tanti gol soltanto 12 in carriera al tottenham ha fatto 20 assist al city 18 vediamo che cosa succede l'appetito vi è mangiando stiamo alzando il livello delle performance in europa però non bisogna accontentarsi bisogna capire che bisogna alzare l'esperienza walker theo ragazzi è una cosa da premier league vediamo che cosa succede commentate numerosi qui sotto mi raccomando ripeto scadenza 2024 è diventato una riserva si può prendere per un piccolo conguaglio perché no vediamo che cosa succede noi ovviamente aggiorniamo su tutto vi piacerebbe a me sì terribilmente sì ovviamente piedi per terra anche se l'entusiasmo può arrivare commentate numerosi qui sotto monitoriamo questa pista che non mi sento di dire calda mai da seguire iscrivetevi qui siete dei cuori rossoneri arriviamo subito a 90.000 iscritti prima del doppio impegno del ritorno appunto contro l'inter chi non si iscrive ti fa inter commentate iscrivetevi e guardate il video di oggi di pranzo ora in sovraimpressione mi raccomando un grazie ai vecchi iscritti un benvenuto ai nuovi non fermiamoci forza minano oggi più che mai domani ancora di più forza zlatan grazie